la catechesi deve partire dal contesto storico della rivelazione divina per presentare due cose soltanto personaggi e avvenimenti dell'antico e del nuovo personaggi e avvenimenti voi non potete fare un discorso sulla giustificazione è un concetto astratto voi potete presentare la figura di Abramo ricordatevi che la dimostrazione più profonda, più autentica quella che è inattaccabile è il racconto il ragionamento può essere sempre intaccato il racconto no e giustamente se voi notate i biblisti perché questo è un documento della Pontificia Commissione Biblica cosa dicono ai catechisti? il racconto personaggi avvenimenti tu presenta i fatti poi dai fatti un catechista raccoglie il primo punto, il quarto e il settimo un altro catechista raccoglie invece per i suoi ragazzi il secondo, il quinto e l'ottavo il racconto è un grande cesto pieno di frutta ognuno prende quella che gli è utile se tu invece fai un ragionamento o stai lì o stai lì non c'è alternativa per questo noi diciamo che la forma catechistica migliore è il testo biblico perché il testo biblico fondamentalmente racconta voi trovatemi una definizione di chiesa nel testo biblico ma neanche se andate con una lente di ingrandimento grande così non la trovate una definizione di sacramento no? non la trovate? l'unica definizione che c'è di Dio è indefinibile Dio è amore tu definisci che cos'è l'amore passi una vita intera per definirlo e quando arrivi alla fine dice beh ma non è così noi siamo protagonisti dell'amore ma che? noi siamo vittime ce lo troviamo dentro fa da padrone io mi diverto un mondo all'università a vedere il giovanotto dico è una ragazza non è mica il padre eterno è e noi pensiamo di dominare tutto ma che? ma che? se siamo attenti come erano gli orientali a tutto ciò che ci accade ci accorgiamo che è bene scegliere alcuni padroni altri meglio lasciarvi andare ma sono padroni purtroppo venerdì è venuta una madre generale da me lì a Roma perché ha una suora quarantenne e si è innamorata cotta non vi dico di chi se no vi ho fuori uno scandalo e ha detto voglio andarmene dall'ordine religioso e la generale mi dice cosa posso fare per trattenerla? dico niente ma devo lasciarla andare ci mancherebbe altro dico se lei persona adulta quarantenne non è riuscita a prendere questo sentimento e a orientarlo in un certo modo cosa devi fare? sparargli? no ever? lascialo andare capisco se è una suoretta giovane allora la aiuti a riflettere gli dici prenditi due mesi tre mesi quattro mesi ci rifletti poi decidi se vuoi te ne vai se non resti non è stata tanto convinta la generale la presentazione dei Vangeli deve avvenire in modo da provocare un incontro con Cristo punto basta non sono importanti i concetti è importante il rapporto con la persona di Gesù quindi gira rigira spiega una parabola spiega un racconto l'obiettivo è lui il cristianesimo amici miei non è una dottrina è un legame di fascino con la persona di Cristo e basta e ognuno di noi ha questo di bello che si lega la persona di Gesù a modo proprio per certi aspetti che gli sono propri il mio modo di essere legato a Gesù Cristo è totalmente diverso dal vostro la religione cristiana è la religione più libertaria che possiamo immaginare quando ce la presentano come gioco soffocante scordatevelo quella non è la religione cristiana e quando ve la presentano come minaccia o fai così o vai all'inferno non è quella la fede che Gesù Cristo ci chiede Gesù Cristo dice se vuoi essere perfetto se vuoi essere perfetto se no buonanotte se vuoi vieni e seguimi se no buonanotte provvederà lui dopo ma la libertà non deve avere la coercizione della paura perché se ha la coercizione della paura cessa di essere libertà San Tommaso d'Aquino questo l'aveva capito benissimo quando con un'affermazione semplicissima fa scoppiare tutte queste mentalità dicendo Dio vuole dei figli non degli schiavi punto la catechesi evidentemente non può sfruttare che una piccola parte dei testi biblici in generale osa soprattutto i racconti notate che torna sia del Nuovo che dell'Antico Testamento insiste sul decalogo perfino i biblisti lo dicono però con quella precisazione che vi ho detto prima i dieci comandamenti sono necessari perché ti danno il confine ultimo non superare quel confine deve essere attenta a usare ugualmente gli oracoli dei profeti l'insegnamento sapienziale e i grandi discorsi evangelici come quello della montagna si ho capito tu un ragazzino di sette anni ripresenti il discorso della montagna beh è un'impresa titanica quasi impossibile ma i racconti per quanto riguarda gli oracoli profetici permettetemi un piccolo io sono vetero testamentarista quindi cicero prodomo sua guardate che il deutero Isaia che opera a Babilonia durante l'esilio per combattere l'ateismo non possedeva la metafisica se c'è una conseguenza c'è una calla se c'è il mondo c'è Dio ma non avendo dunque questo tipo di possibilità è riuscito a dimostrare l'esistenza di Dio attraverso la profezia mettendo una domanda molto elementare dice gli dei profetizzano? no Yahweh si le profezie di Yahweh si avverano? si ecco dimostrata l'esistenza di Dio capite? il bambino queste cose qua le coglie al volo siamo noi adulti che siamo un pochettino più affaticati nel capire questo fine Bibbia e liturgia mi anche ve la spiego non riesco perché voi siete maestri andate a messa tutte le domeniche sapete tutto non sapete un bel Kaiser perché perché i nostri amici preti fanno un piccolo peccato nei loro confronti e nei vostri confronti non hanno mai letto quel grosso fascicolo che si trova all'inizio del lezionario voi sapete che ci sono più volumi del lezionario nel primo volume c'è una prima parte che viene chiamata prenotanda introduzione va bene dove si spiega come si leggono i testi nella liturgia cosa si celebra nella messa il mistero di Cristo bene qual è il testo base il Vangelo gli altri testi sono in funzione del Vangelo cioè sono fatti messi lì per capire il Vangelo quindi non hanno un'importanza per se stessi la messa è costruita attorno al Vangelo io mi trovo con il Vangelo della trasfigurazione lettura istintiva che voi fate ah Gesù trasfigurato la colletta vi dice o padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato figlio allora nel testo evangelico non è importante il Gesù trasfigurato è importante la parola del padre che dice ai discepoli ascoltate lui questa è la cosa più importante tornate su nella prima lettura c'è la vocazione di Abramo esci dalla tua terra ma nel paese che io ti indicherò punto basta non c'è la parola vocazione ma il racconto è quello della vocazione nella seconda lettura c'è un pezzettino della seconda lettera di Pietro che dice seguite la straordinaria vocazione la quale Dio vi ha chiamati qual è la nostra chiamata la nostra vocazione ascoltarlo poi arriva il biblista e dice cucù guardate che ascoltare non vuol dire è qualcosa di più perché nell'antico testamento Dio aveva insegnato al suo popolo ascoltare Israele primo punto Dio è uno solo questa è la fede di Israele uno solo secondo punto ama Dio questo è il fondamento della morale quindi nel primo testamento Dio dice ascolta fede morale Dio è uno ama Dio nel nuovo testamento Dio dice ascoltate lui c'è un linguista che ci ha insegnato la commutazione equivalente qual lui chi è Gesù Cristo sì ma cosa equivale alla fede e alla morale ascoltate lui significa fare di Cristo la nostra fede e la nostra morale questa è la nostra vocazione semplicissima basta saper leggere i testi voi dite e la trasfigurazione no la liturgia vi dice non prestare attenzione perché vi dice non prestare attenzione perché il testo di Matteo come poi anche il testo di Marco ma non interessa Matteo perché siamo nel ciclo A nel primo anno dice dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni allora voi mi chiedete per te biblista quel dopo sei giorni cosa significa tante cose perché Matteo non mette mai la data come i ragionieri per ogni avvenimento che narra stranamente li mette dopo sei giorni perché lo fa tu vai nelle concordanze vedi e c'è nel libro dell'Esodo la stessa espressione greca la stessa dopo sei giorni Dio chiamò Mosè e al settimo giorno lo fece salire sul Sinai dove c'è la teofania Matteo ha chiara l'idea dopo sei giorni Mosè sale sul monte e Dio li si manifesta dopo sei giorni legame fra i due episodi Gesù sale con i discepoli e si manifesta loro che cos'è la trasfigurazione una teofanie questo dice il testo biblico cosa fa la liturgia per dirti non prestare attenzione a questo taglia dopo sei giorni e mette in quel tempo e tu resti senza pezza d'appoggio per fare il parallelo questo è un modo molto sottile che la liturgia ha per dirti di tutta la ricchezza di questo brano ce ne sono dieci di ricchezze presta attenzione solo a una quella lì e te l'annuncio già nella colletta padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato figlio perché non ha messo ordini padre che ordini di ascoltare il tuo amato figlio perché il tema è la vocazione del cristiano quindi chiami vocazione di Abramo siete chiamati una vocazione splendida tutti la prima volta che ho spiegato ai gesuiti sta roba qua sono rimasti fulminati sulla via di Damasco come Paolo e loro mi hanno chiamato ad insegnare alla più prestigiosa università che esiste nella chiesa l'università gregoriana a spiegare loro come si fa esegesi dentro però la liturgia e non esegesi diversa da quella che si fa quando si fa esegesi come la facciamo noi è tutto scritto in cui prenotanda cioè in questa introduzione che è faticosa è lunga è complessa ma lì è scritto tutto bene linea 101 giustamente mi ha mi ha mi ha mi ha mi ha fatto osservare a me piacerebbe il terzo poi un'altra persona mi ha fatto dice mi piace il sesto adesso non decidete subito concedetevi un minuto un minuto ve li leggete tutti e sei vi ascoltate vi ascoltate e poi scegliete chi è per il numero uno? una persona sola chi è per il numero due? uno due tre quattro chi è per il numero tre? uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici guardate che potete scegliere più chi è per il numero quattro? uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici sedici dodici nove venti se la democrazia è fatta di numeri Quindi dovremmo fare il numero 6, però questo significa che abbiamo un programma per altri 6 anni. Entro 6 anni li facciamo tutti. Adesso vi spiego, vi ho proposto il Vangelo di Marco perché il prossimo anno in liturgia si legge Marco. Vi ho proposto il Mondo delle Parabole perché c'è una rivista di catechisti che si chiama Catechisti Parrocchiali che quest'anno affronterà solo le parabole. Poi vi ho proposto Amos perché il nostro Vescovo, sotto questo profilo tanto di cappello, è molto interessato ai problemi sociali. Io ho proposto i comandamenti perché, come è stato giustamente detto, i paroci li vogliono, ma il guaio è che non li conoscono. Perché abbiamo due decaloghi? Perché noi abbiamo scelto il decalogo del Deuteronomio e non il decalogo dell'Esodo? Perché i protestanti hanno dieci comandamenti come noi ma non sono gli stessi? Perché loro il desiderio della donna non ce l'hanno. Però per arrivare a dieci, ammesso, non fatevi immagini. Chiedetelo ai paroci. E poi i capitoli Genesi 1-11, i primi undici capitoli, sono sempre un cavallo di battaglia nella discussione fra cattolici e i cosiddetti razionalisti della scienza. Con me non discutono più. Strano. Buona estate! Grazie a tutti.